Su fratelli, su compagnie, su venite in fitta schiera, su una libera bandiera, splende il sol della felì, nelle pene e nell'insulto, ci stringemmo il muto patto, la gran casa... Il sole sorge dietro l'incontro e scopre l'arno all'altezza della nave. D'estate, alle cinque del mattino, il cielo è chiaro. Lungo le vie provinciali avanzano i barrocci degli ortolani diretti al mercato, con le ceste della frutta e delle verdure bagnate di rugiada. Il contado destra la città. Fuori porta c'è il casotto del Dazio, dove la sosta è obbligatoria. Passano i cacciatori, le donne coi panieri delle uova, i renaioli che raggiungono il fiume e si incrociano coi corrieri, le diligenze, gli alti carri di fieno, di fiaschi, di sacchi di farina. Le campane di San Gaggio e delle Madonnone suonano il matutino. C'è un folle in velocipede che a quest'ora ha già percorso due volte i viali di circonvalazione e le cascine. È un globetrotter fra il giro del mondo. Sono anni che si prepara. «Dai, Tullio, sei solo!» gli gridano gli stradini e quelli della Gabella e i renaioli. «Mandaci una cartolina da Parigi! Dal Mato Grosso! Dalle Russie, se ci arrivi!» Al coro si uniscono i lavoratori che giungono sotto porta, provenienti dai paesi. Essi compaiono camminando ai bordi della strada, uno dietro l'altro. Sono sacchini di piazza, corradori, infermieri e soprattutto manovali, badilanti, muratori. Il lunedì costoro formano una coorte. La più parte dorme sui cantieri sei notti la settimana. Entrano in città e se dispongono di due soldi si fermano a bere una mescita. Poi tutti mangeranno almeno del pane prima di salire sui ponti. Questo lo chiamano concimare lo stomaco. Certuni accompagnano il pane con dell'uva. È probabile l'abbiano rapinata strada facendo, saltando in un campo dove non è cintato. Sono i più giovani, ai quali non importa se c'è da attaccar briga di levata o da rischiare le fucilate dei contaglini. Un grappolo. Due. Lo stretto necessario. La città gli viene incontro con le botteghe odorose di vino, di polenta fritta, di tripa scodellata, di schiacciata all'olio, di pan di ramerino. Escono di chiesa le beghine. È un effulovio d'incensio. È buono anche l'odore degli stallaggi e di tutti quei fiori sotto le logge. Essi scoprono sempre qualcosa di nuovo entrando in città all'inizio della settimana. Con la ruota del pane nel fazzoletto colorato e indosso la biancheria pulita. Cosa? Non lo saprebbero dire. È una speranza. L'aria sembra far loro delle promesse. Gli piace la ragazza che scuote il lenzuolo al davanzale, il cane l'andagio che per un po' gli si mette dietro. Vicino ai cantieri si incontrano coi compagni di lavoro che abitano in città e più spesso leggono il giornale. Sono per questo più aperti di mente i cittadini? Fanno insieme l'ultimo tratto di strada e non c'è differenza, sono pari a pari. Semmai essere di città significa avere più bisogni, più tentazioni e più pensieri. Chi si ferma all'edicola, a compitare il sommario della nazione, chi all'orinatoio. Sputano innanzi a sé e guardano il cielo. Sarà una giornata fosa, lo si indovina dalla compattezza del cielo e perché non c'è la brezza che di solito all'alba scende dalle colline. Essi si accorgono di essere di già sudati e non hanno ancora preso in mano gli arnesi. Quando salgono sui ponti, ogni volta, la speranza si è dileguata. Cotè stamattina, nemmeno attraversando la città, essa gli sorrideva. Da un mese e mezzo era un'altra vita. E per quanto riguarda i proverbi non bastino a consolare, essi si dicevano che, davvero, peggio non muore mai. Ancora un mese e mezzo avanti, in una mattina come quella, si sarebbero sentiti lo stesso poveri ma felici. O almeno gli sembrava. Avrebbero scherzato con le ovaiole, qualcuna cenera che a stargli dietro si sarebbe lasciata covare. Era già accaduto. Se ne era fatto un gran parlare, avrebbero dato la balia al giramondo, che non si decideva mai a partire. E con gli ultimi centesimi, se li avessero avuti, bevuto mezza mescita al banco di nocellino. Tutte cose che parevano tramontate. La sera prima erano scappati all'arrivo dei soldati. Avevano preso la strada di casa senza voltarsi indietro. Quindi, digiuni da ventiquattro ore, avevano cenato con la panzanella, cercando di non guardare in faccia la moglie e i figlioli, mentre facevano le porzioni. Avevano detto, forse domani si riattacca a lavorare. Essi non sapevano dell'arresto di Del Buono, né di Aminta finito all'ospedale, nulla, se non che alcuni non erano tornati a casa come loro. Non era tornato l'Indo a Rincine e non era tornato a Friani a Galluzzo, e che di certo, in prossimità dei cantieri, avrebbero incontrato coloro che non decise a continuare lo sciopero. Si sarebbe perso il lume degli occhi, come iersera? Ormai tutto era stato detto e dimostrato, e siccome la verità non è mai una sola, questa si presentava con tre facce. C'era la verità di Aminta, c'era la verità di Olindo e del tedesco, e c'era quella di Del Buono. Scegliere non era difficile, solo che avessero ascoltato la ragione. Le parole del tedesco erano state le più giudiziose, le più umane, così erano giunti in prossimità dei cantieri e, dietro di sé, nelle case, ciascuno aveva lasciato, grande o piccina, una famiglia, i cui sguardi lo sospingevano come tanti pugnali appoggiati alla schiena. Ma arrivati al quadrivio del Ponte Rosso, e già all'alba cedeva al primo mattino, la loro decisione, qualunque essa fosse, venne a scontrarsi con una realtà inaspettata. Da prima la notizia degli arresti, poi l'avviso che trovarono all'ingresso del cantiere, e i soldati, e gli agenti, e quei loro compagni, infine i crumiri, che li avevano preceduti al di là delle impalcate. Non si trattava più di scegliere e di sottoscrivere una resa senza conduzioni. A questo, come alla presenza dei militari, erano preparati. Gli si chiedeva di riconoscere equilegittima, insieme a una tariffa, l'incarcerazione di Del Buono, di Leopoldo e degli altri, forse la loro condanna. Quindi la chiusura della Camera del Lavoro, e più ancora il licenziamento, la fame assicurata per i delegati di cantiere, e per coloro che maggiormente si erano esposti nel discutere coi padroni. Ora, presi singolarmente, poteva darsi che anche di fronte a ciò, pure inghiottendo fiele, la più parte, venissero di campagna o di città, avrebbero capitolato. C'è sempre un'alba, che in un certo modo l'alba dell'orto degli olivi. Accade una e cento volte nella vita di un uomo. Il gallo canta, e non sempre ce ne accorgiamo. Ma i gruppi dei ventuno li avevano fermati davanti ai cantieri, si erano rinnovate le discussioni e i consensi e i dinieghi. Poi, quando i caporali ebbero battuto la serena, si erano avviati e avevano letto l'avviso. E si leggevano. Uno leggeva per tutti, e istintivamente, più che obbedendo all'ordine del sotto ufficiale, i soldatini si erano portati al centro dello sterrato, con l'intenzione adesso sembrava di accerchiarli. Allora il timore, invece di spingerli in avanti, li aveva fatti indietreggiare. Nell'interno del cantiere Badolati, il questurino in bombetta si appoggiò al bostone che gli arrivava alla pancia e disse, «Uno alla volta l'ingegnere vi aspetta in direzione. Chi non sa scrivere basterà, metta una croce. Cavò di tasca un foglio. Salani, Lippi, Donnini, ci sono?» La domanda accade nel silenzio, tale da poterne sentire l'eco. Come per un piano bello e combinato, si disse in seguito, i muratori indietreggiarono fino all'altezza della masecciata, si disposero in fila, spiegandosi senza volere ai due lati di Metello e del decano. Quei soldati guardarono il sotto ufficiale che allargò le gambe come per puntellarsi sui talloni. Il silenzio divenne anche più fondo e fanciullescamente il piccolo Renzoni si aspettò di udire il ronzio di un moscondoro. «Non c'è nessuno di questi tre?» ripete il delegato. Nemmeno Crispi trovò il coraggio di intervenire, girò alle spalle degli agenti e si infilò dentro la direzione. Ora, Olindo e i suoi sette compagni avevano fatto mucchio davanti al dormitorio, parevano assistere alla scena, uno di sull'omero dell'altro. Il tedesco teneva le braccia concerte e masticava il suo filo d'erba d'avena. «A che gioco giochiamo?» disse il delegato, ma senza gridare. La sua voce era dura, ostile, sicura di esprimere un'intimidazione, non meridionale, ma ligure o piemontese, qualcosa di simile. Tuttavia Metello poteva dire di riconoscerla. Era la stessa voce con cui aveva avuto a che fare fin dalla sua prima esperienza di guardina all'indomani della scomparsa di Betto. Invece, di paura, metteva addosso dell'ardire. Ho posto una domanda. E il bastone, sotto il braccio, avanzò di qualche passo verso gli uomini fattisi a ridosso della massicciata. Fu a questo punto che Metello rispose «Donnini è assente, si trova all'ospedale, lo dovrebbe sapere. So che ce l'avete mandato voi gli altri. Forse è proprio tu. Chi sei?» «Salani Metello». «Già». «Bene, è uno, l'altro, il terzo, venga fuori. C'è?» «Sicuro che ci sono», esclamò il decano. Fece per alzarsi e Metello dove toccargli il braccio perché non aggiungesse parola. Da qualche istante sulla soglia della direzione era apparso l'ingegnere, anche egli scortato alle spalle da Crispi e da Nardini. Indossava la giacca dal pagai, calzoni di fustagno, la sua divisa. Teneva il cappello di paglia alzato sulla fronte e masticava la cicca di Toscano. Il suo volto, scuro per via del sole preso sulle aie durante le trebbiature, aveva un'espressione anche più tetra che egli, gli si era, non gli si era mai vista. Sembrava un toro trafitto, ma saldo sulle zampe immobile al centro dell'arena. Come la volta che al campo di Marte vennero gli spagnoli a rappresentare la corrida, si disse poi. C'era da stupirsi di non vederlo armato, non di meno sorprese ciò che disse e il tono delle sue parole, in un certo senso conciliante, mentre gli agenti stavano per posare le mani sul Mettello e sul decano. Aspetti delegato? Senta, prima che lei proceda vorrei dirle qualcosa. Anche a lei, maresciallo, per favore. Era un tono che poteva sottointendere il desiderio di non aggravare maggiormente le cose, oppure la decisione di spingerle alle conseguenze estreme. Rientrando in direzione, dopo aver fatto strada al poliziotto e al sottofucciale gettò la cicca. E questo, nel silenzio, che era tornata a dominare la scena, sembrò un gesto di sfida. Crispi chiuse la porta alle sue spalle, poi raccolse la cicca, la spense, la riposa nel taschino e andò a sedersi su una panca di legno al fianco di Nardini. Ora, i soldati, su due file di cinque, faccia alla masecciata, tenevano il pollice sulla cinghia dei fucili. Tutto attorno pesava questo silenzio, questa immobilità, questa attesa. Al di là degli orti, dove era la ferrovia, transitò un merci. Il fischio e il fumo della locomotiva parvero durare un tempo infinito nell'aria. Quindi i sette rimasti fino all'ora ridosso del dormitorio, in disparte isolati, si mossero lentamente, col tedesco che li precedeva, per avvicinarsi a Crispi e Nardini. Pochi passi li dividevano e tuttavia a metà del loro cammino e come cogliendoli allo scoperto si alzò un grido «Crumiri!» Un mugghio gli fece eco. Nessuno si era spostato nella lunga fila degli uomini addossati alla massicciata. Fu come se quel grido e il consenso che l'aveva seguito non fossero partiti dalle labbra di Duili e di tutti loro. Il decano borbottò «Non perdiamo la testa! Questi ragazzi hanno in mano un fucile e una paura addosso più grande di quella dei crumiri e della nostra messa insieme!» Ma soltanto il piccolo Renzoni che gli era vicino poteva udirlo e sorridere strizzando gli occhi. Loro, i crumiri, come Duili li aveva chiamati, si erano fermati un attimo e guardati l'un l'altro poi il tedesco «Vergognatevi voi!» aveva gridato. «Non vi volete bene se agite in questo modo! Né a voi né ai vostri!» Ancora nessuno si mosse e nessuno gli rispose. Gli agenti gli si avvicinarono intimando di ritacere e si tornarono verso il dormitorio. Olindo sembrava volersi nascondere ora dietro questo ora dietro quello dei suoi compagni. Seppure a distanza non si era potuto vedere il suo viso Mettello tratteneva la lingua tra i denti e come aveva fatto poco prima col decano ora aveva posato la mano sul braccio di Duili. Dall'alto della massicciata veniva giù un calessino. Lo guidava il nipote dell'ingegnere e accanto a lui c'era il figliolo di Madì. Lo riconobbero mentre si scostavano per lasciar passare il cavallo. «Buona lana anche quello!» commentò il decano. «Me lo ricordo, bambino, quando suo padre lo portava con sé la domenica al gioco del pallone». I due giovani affidarono il calessi a Crispi ed entrarono in direzione. «Allora il pallone non era alla croce era in Borgo Pinti si chiamava la ghiacciaia». «Lo so Lippi lo sappiamo tutti» scattò Mettello «Tu ci frastorni con certe storie». Ma il decano non era uomo da farsi togliere la parola cambiò argomento e fu un modo di continuare il proprio discorso e di rientrare in tema disse «La verità è che i padroni sono d'accordo e noi siamo divisi». «Ti torna nuovo?» «No mi torna vecchio di sessant'anni anzi di sessant'uno». «Ma non era mai successo che si fosse in tanti come oggi tutti dalla parte buona disse Duili». «Già» disse il decano «Aveva alzato gli occhi alle impalcate e anche il suo pensiero deviò e pensare che in tanti quanti siamo si sarebbe di già coperto il tetto e dato mano a un altro stabile». Erano tutti lì invece si fronteggiavano una volta di più i padroni avevano aperto una breccia tra le loro file questo il vecchio avrebbe voluto dire sette erano aggruppati vicino al dormitorio ed essi i più di spalle la massicciata in una lunga fila seduti sui talloni su un sasso o con le mani dietro la schiena in mezzo c'erano i soldati con i fucili ad armacollo e davanti alla direzione c'erano i caporali e gli agenti lalsù il cielo era tutto azzurro il sole batteva fino a metà della fabbrica in costruzione suonò la campana di Montughi e al di là dei prati si vedeva il casellante che rialzava le sbarre del passaggio a livello il decano disse «Sentite beh qualunque cosa decidono quei cinque là dentro ciascuno si comporti come crede io ho abbastanza anni non voglio morire con dei rimorsi» si era levato in piedi si appoggiava con la mano alla massicciata «Non c'è nemmeno del buono che ci può consigliare» divagò «A quest'ora se li hanno messi insieme lui e Poldino staranno a far la conta per chi deve sedersi per primo sul buriolo» poi riprese «Io non mi ritiro ma avanti di arrivare al peggio per davvero pensateci bene tutti quei fucili in mano a quei figlioli mi fanno vela agli occhi» quindi si rivolse a Metello «Tu non sei del mio parere? Pronunciati non conviene più buttare l'olio sul fuoco» «Ti viene meno la fede?» Metello disse «Mi viene meglio» replicò il decano e bestemmiò «Mi viene meno l'incoscienza» «E allora vai torna a casa dal momento che sei stato licenziato ma anche tu sei stato licenziato come me e questa gente» indicava col dito la fila dei compagni che ora aveva di fronte tante facce la più parte attente sorprese che cercavano di capire «Questa gente novanta su cento se non torna al lavoro non lo fa perché ha in animo di continuare lo sciopero né per tirar fuori Bastiano e Poldino dalle murate questa forza nessuna la può avere se non tornano sul lavoro non ci tornano per difendere proprio te e me e quel disgraziato di Aminta «Io li ringrazio tutti vi ringrazio tutti» disse «Ma abbiamo addosso i fucili eccoli lì e io questa responsabilità non me la voglio pigliare se non trovo lavoro o a fare erba e la cuocio sembra che i vecchi mangiare poco faccia bene ora sì aspettava che Metello lo interrompesse magari per dargli torto si sarebbe aperta nuovamente la discussione ma fu Duili a togliergli la parola stai dicendo calma agli altri da stamani calmati te il decano si appoggiò di schiena alla massicciata tra Friani e il piccolo Renzoni io resto qui ma ho voluto togliere il misto peso e non poté trattenersi da ripetere ancora tu Metello non hai proprio nulla da dire Metello appoggiava il piede sul sasso sopra cui sedeva e con le mani intrecciate si sorreggeva lo stinco senza voltarsi ma a voce alta perché tutti lo potessero sentire e non c'era adesso chi non gli richiedesse intimamente di parlare disse un mese e mezzo fa Montelivecchi si fu tutti d'accordo e incominciare questo sciopero e nessuno si nascondeva i sacrifici a cui si sarebbe andato incontro miseria per miseria si disse proviamoci sono salari da fame non se ne vuoi più se andrà bene e si sarà fatto un passo avanti è vero o no e che si dovesse resistere il più a lungo possibile non fu tanto del buono a dirlo quanto uno per uno tutti quanti ragion per cui a rendersi proprio oggi che siamo sul punto di averla vinta mi sembra uno sproposito è inutile ripigliare da capo la discussione del buono si trova le murate e non lui solo i soldi della sottoscrizione stanno per arrivare in più tutti gli iscritti alla camera del lavoro di qualsiasi mestiere e arte sono pronti a darci una mano questi sono fatti accertati si tratta di vigilare un altro paio di giorni non è poco lo so ma una luce ora c'è la si vede non si va più alla cieca come 24 ore fa tuttavia se come diceva Lippi invece che per queste considerazioni voi gli altri non tornate sul lavoro per un riguardo verso di me verso di lui o verso Aminta anch'io per conto mio vi libero da questa gentilezza che vuole non abbia scrupoli metta la firma si leghi il sasso a collo e festa finita e tu hai finito gli chiese Friani no voglio dare un'altra spiegazione parlando sceglieva le parole appunto perché voleva che essi avessero un senso preciso e non si prestassero in seguito alle recriminazioni il suo temperamento di uomo cresciuto tra le ottusità e le sottigliezze della gente contadina e via via affinatosi nelle diverse esperienze che la vita e il lavoro in città gli avevano offerto la sua intelligenza modesta ma quadrata la sua generosità e la sua furbizia la coscienza infine delle proprie idee che egli era sicuro di avere acquisito facevano la loro grande prova egli capiva che come un mese prima quando era avvenuto lo scontro con Badolati i suoi compagni si aspettavano un esempio e di doversi caricare per tutti loro del peso di cui anche il decano si era voluto disfare la solidarietà che essi gli stavano prestando lo rendeva maggiormente responsabile del destino comune più immediato e tra i pochi di già passati dall'altra parte della barricata ci fosse Olindo ora invece di amareggiarlo lo eccitava era guardando avanti a sé al di là dei soldati e degli agenti e cercando di individuare Olindo tra il gruppetto dei crumili che parlava dondolando appena col busto e reggendosi la gamba continuò io vi dispenso da sacrificarvi per me se questo oltre a essere un sacrificio dal punto di vista del mangiare vi sembra un sacrificio anche agli occhi della mente perché datemi dello zuccone e dell'ingrato ma secondo me non mettere quella firma è nel vostro interesse si portò una mano alla faccia e se la passò sulla bocca e sul mento si riversò un poco indietro e guardò da una parte all'altra i suoi compagni che gli stavano attorno in fila il primo a rispondergli fu Duili disse sei davvero un ingrato ma hai ragione gli altri tutti sembravano a sentire forse più d'uno si preparava a rispondere faceva apposto a un pensiero prima di esprimerlo il decano disse voglio vedere come ti comporti ora che quelli escono di direzione Metello si era rivolto a Friani tu cosa volevi dire Friani scosse la testa e accennò un sorriso una cosa sola che non metterei la firma nemmeno dopo che mi avessero tagliato tutte e due le mani ma proprio per le ragioni che hai portato non diventerò mai socialista e resterò anarchico tutta la vita come i coloro che avrebbero voluto interloquire anche loro Metello non poteva rispondergli l'ingegnere e il suo seguito stavano uscendo di direzione Badolati parlava al nipote e al figlio di Madì che risalirono sul calessino Metello ebbe un'idea chiamò il piccolo Renzoni gli disse scappa va a vedere come stanno le cose al cantiere di Madì e se sanno nulla degli altri mettiti le gambe in collo torna più presto che puoi Renzoni piccolo risalì la massicciata aiutandosi con le mani e si precipitò dall'altra parte del lungo munione sempre correndo raggiunse Ponte Rosso e pareva che non volendo il calessino ora lo inseguisse prima che gli fosse di ritorno a portatori una grande notizia così gli sarebbe sembrato sullo sterrato prospicente le impalcate del cantiere Badolati qualcosa doveva ancora accadere ciascuno di quegli uomini avrebbe dato la misura del proprio animo l'ingegnere avanzò col questurino in bombetta e il sotto ufficiale che gli facevano ala e che si arrestarono a qualche passo di distanza gli uomini erano in piedi l'uno accanto all'altro i pollici nei taschini del panciotto ora il sole metteva lo scoperto tutto lo sterrato e via via ingoiando l'ombra era arrivato sotto la massicciata essi lo avevano alle spalle mentre Badolati ne era investito in pieno giunto al di là della striscia d'ombra si era tirato il cappello sulla fronte spingendolo dalla nuca quindi le mani dietro la schiena più ingombito del solito disse ma vi ha proprio dato di balta il cervello accennò col mento ora il maresciallo ora il questurino alzò la testa verso le impaccate scomodare l'esercito e la questura intanto i lavori stanno lì ad arrugginire tacque sembrò riprendere fiato o sospirare non crediate che vi parli così perché ho intenzione di calare le braghe vorrei soltanto sapere cosa debbo pensare se c'è qualcuno disposto a spiegarmelo mi fa un piacere lo guardavano in silenzio ed egli vedeva con testi occhi che gli facevano muro capì che la breccia aperta da quei sette che avevano trascorso la notte nel dormitorio si era richiusa rispondimi te Lippi che sei il più vecchio Lippi si tolse di bocca il cannuccio della pipa infastidito che gli toccasse questo privilegio non di meno era pur sempre il leddecano e parve dimenticarsi di un tratto dei propositi espressi qualche minuto prima siccome disse si rivolge a me oh ma non mi ha licenziato bastava tu venissi in direzione e tutto si sarebbe chiarito questo sull'avviso non ce l'ha scritto eppure mi conosci da quanti anni o una trentina anche di più ho lavorato da manovare con suo padre e dunque ti risulta che quando qualcuno mi ha chiesto di venirgli incontro io l'ho lasciato morire di fame qui il lippi sempre più sofferente e col sangue che gli saliva la testa disse qualcosa che davvero sul momento avrebbe potuto rendere la situazione anche più tesa crispi non ci si doveva più trovare e invece c'è c'è perché ci deve essere ecco lo vede e sa cosa le dico anzi non le dico nulla le chiedo se non le sembra di deviare l'ingegnere gli si avvicinò di un passo entrò nella striscia d'ombra e faccia a faccia le mani sempre dietro la schiena io non devi o lippi io ho sempre seguito una linea siete voi altri che avete sconfinato il decano sostenne il suo sguardo sembrò scandire le parole la pipa alzata all'altezza del proprio viso e agittandola di qua e di là dalle due parti della fila questa ingegnere è un'altra generazione disse mi permetta di spegnere due parole quando ero giovane io gli imprenditori come lei mandavano i caporali ad ingaggiarci noi si stava in fila davanti alloggiato di piazza della sogneria dove c'erano le poste e si aspettava come delle puttane proprio si portava ancora il grembiulino alla vita se ne ricorda era la nostra divisa di lavoro e c'era sempre chi si offriva per meno ci si rubava la fatica l'uno con l'altro sembrò commuoversi di se stesso e di ribellarsene subito concluse questa è un'altra generazione l'ho capito io che non so né leggere né scrivile possibile che non l'abbia capito lei che ha studiato allora c'era più rispetto l'ippi e c'era meno lavoro disse l'ingegnere può darsi ma mi lasci perdere la prego lentamente si sedè su una pila di mattoni io ho già rappresentato la mia parte in commedia e di seduto sì nella fila rimase come un vuoto ecotesto vuoto idealmente sembrò riempirlo l'ingegnere metello gli era accanto e lo guardava Badolati fu sul punto di rivolgergli la parola ma si trattenne ostentando di voler ignorare come aveva fatto fino ad allora gli voltò le spalle e risalì la fila come alle cascine durante la rivista il giorno dello statuto si disse poi l'ingegnere sembrava il generale e non aveva l'aria di distribuire degli encomi ma piuttosto di decidere una decimazione perché lo sappiate dalla Lucchesia e dalle Calabrie dove non c'è il lavoro che c'è qui sono pronti a trasferirsi a Firenze decine e centinaia di muratori o manovali non fanno questioni di tariffe gli basta trovare da lavorare ora uno per uno mi dovete dire se questa è la vostra ultima decisione a capo della fila c'era Ugo Parigi era stato fornacciaio e di ritorno da servizio militare due o tre anni prima non avendo più trovato il suo posto per simpatia diciamo era venuto sui cantieri era un ragazzo piena di vita suonava la cornetta nella filarmonica delle caldine stava per diventare mezzo muratore quest'inverno si sarebbe dovuto sposare durante lo sciopero si era mangiato i primi risparmi destinati a letto e all'armadio amico di tutti dove andavano i più andava lui tu gli chiese l'ingegnere io faccio quello che fanno gli altri gli altri sono anche quelli là che la firma l'hanno messa ieri sera io dico di questi gli altri noi precisò Parigi quelli di questa fila non ci siamo intesi voglio conoscere la tua opinione personale sei un uomo non una bestia ne avrai una Parigi si strinse nelle spalle guardò istintivamente verso Metello guarda me non guardare altrove ma disse l'ex fornacciaio dal momento che mi trovo in questa fila sicché posso anche sostituirti con un napoletano con un lucchese se le sembra che questo sia ragionevole per Dio sei ragionevole tu il secondo era Duili ti è chiesto sei quattro e tre soldi di più allora perché lei non ci ha detto ragazzi vi do la metà vi do un terzo vi do un diecino né lei né gli altri impresari sareste andati alla rovina vi mandiamo ma voi altri alla rovina purtroppo noi ci siamo stabili replicò Duili ma è che dalla rovina siamo passate alla disperazione è una brutta bestia ingegnere il sole aveva risalito la massicciata e invaso tutta la scena l'ingegnere si alzò il cappello sulla fronte e disse vi ho chiesto uno sì o un no non dei paragoni tu disse al terzo e la forza del discorso lo indusse a far dell'ironia se non c'era da mettere la firma saresti già sui ponti oppure no era santino che aveva don albertario dentro il cuore senza esitazioni rispose ora non è più questione cioè quei licenziamenti lei li dovrebbe ritirare vede io a casa oh la donna è un bambino non sono ancora mezzo muratore per cui c'è poco da ascialare lei anche lei è un cristiano e quelli che intende licenziare lo stesso sono dei cristiani hanno una famiglia si impappinò disse ora io non so parlare ma se loro hanno sbagliato non hanno sbagliato più di quanto non si sia sbagliato noi il muro le parole cacciavano gli sguardi Badolati ci cozzava contro e fosse il sole fosse il sangue che anche a lui saliva la testa si sentiva la fronte imperlata di sudore e più acuto il formicolio dalla parte del cuore che da qualche tempo lo tormentava non trovò che rispondere o non volle e tu chiesi al quarto della fila era il muratore fiesolano che chiamavano pomero per via dei suoi capelli rossi mosse il capo per indicare il santino e rispose come lui come ha detto lui le parole del santino le più proprie avevano soppito l'orgasmo in cui si dibattevano coloro che seguivano la fila da quel momento affrontare Badolati e sostenere il suo sguardo e rispondere con sufficiente persuasione la sua domanda divenne più facile per tutti il padrone voleva costringerli ad assumere una posizione che le avrebbe scoperti e fatti individuare una volta per sempre mentre ripetere ciò che aveva detto il santino e che coincideva con lo stato d'animo comune gli permetteva di trincerarsi ancora dietro una responsabilità collettiva non tradirsi e non tradire ora via via che Badolati risaliva la fila il muro proprio là dove nell'interno i mattoni erano più vuoti risuonava come calcare e tu come lui e tu come lui e tu come ha detto il santino cioè meoni come il pomero come lui fu la volta di friani che rispose lei ingegnere è un uomo che conosce il suo mestiere perché non si limita a firmare i contratti e dirigere i lavori e lasci fare i suoi servi queste figure Badolati lo fulminò stringeva i denti e ansimava per via del caldo di quel dolore dalla parte del cuore Friani gli sorrise lei si fa cattivo sangue e scade di prestigio glielo dico perché la stimo in quanto al resto non avrei nessun interesse sono digiuno da 48 ore e ho dormito su una panchina non so chi vi dia tanto coraggio disse Badolati e il decano a cui si era ritrovato nuovamente vicino seduto com'era ripetè è un altro nel generazione noi si era buoni a farci legare ne mettevano dentro una mezza dozzina e tutto era finito Badolati prese il fazzoletto di tasca e se lo passò sulle labbra sulla fronte dietro al collo ora si trovava faccia a faccia con Metello al di là del quale la fila si prolungava di un'altra decina di uomini più avanti c'erano gli orti quei contadini che presto sarebbero stati sloggiati dalle nuove costruzioni erano venuti sotto la rete e assistevano alla scena nel silenzio si udirono le cicale poi il fischio del treno e a Bayon Cane gli rispose il lupo di Crispi tenuto a catena vieni con me salani ti voglio parlare Metello guardò attorno i compagni come per chiedere a ciascuno di loro un tacito consenso Friani disse sta attento può essere un tranello per isolarti e farti ammanettare sarebbe capace e gli pensò la giacca che avevo sulle spalle gli era scivolata di lato fermarsi divenne naturale noi non abbiamo segreti segrete la fame disse Duili e il decano la fame la si fide la paura da che siamo scioperanti è la terza volta che le citino un discorso Metello disse ma i discorsi non portano lo pane Badolati si voltò scosse la testa e incrociò le braccia quindi cavò dal taschino mezzo toscano e prima di rispondergli l'accese un fiammifero gli si spense mentre lo sfregava un altro quando il sigoro non aveva ancora preso il poliziotto in bombetta e i due agenti si erano avvicinati lentamente ma a largo anche il gruppo dei crumiri era avanzato parallelo al plotone dei soldati quei contadini si portarono innanzi di qualche pasto passo rasente la rete Badolati si tolse il sigoro di bocca e disse se il brigadiere non ti ha costretto a sloggiare perché glielo ho chiesto io come un piacere spero che questo tu l'abbia capito e allora perché non ti fidi di lei di lei si mi fido quello che ha detto Friani è anche la mia opinione ma è dei suoi interessi che ho paura i miei interessi vi hanno sempre dato da mangiare poco se no non ci si troverebbe a questi ferri erano due uomini ugualmente carichi d'odio e capaci di uccidersi in un altro se avressero potuto d'altronde si conoscevano troppo bene per potersi disprezzare uno teneva il coltello dalla parte dell'impugnatura l'altro lo stringeva a metà della lama questa è la differenza è una carogna Salani uguale a mio suocero me l'ha già di già detto tempo fa non uguale peggio ci credo mio suocero era ad una pasta diversa della mia fosse ancora vivo non gli legherei le scarpe ma è morto e se ne rammenta come misura le parole te ne potresti pentire era questo che mi voleva dire speravo mi volesse parlare di come mettersi d'accordo per trovare una via d'uscita lei crede che noi che per noi sia un divertimento ci tremano le mani dalla disperazione un mormorio percorse le file degli uomini addosso alla massicciata e senza volerlo sull'empito di cotesto consenso Mettello stava alzando la voce si trattaneva la giacca ai risvolti ed era come proteso verso l'ingegnere ci passa agli occhi a vedere il lavoro lasciato in tronco quanto a lei lei è quasi sempre sui ponti con noi ci conosce lo sa che fatichiamo si mette una mano sulla coscienza abbiamo chiesto una miseria e negarcelo fino a questo punto significa proprio non aver cuore non fu badolati a rispondergli il mal tedesco di mezzo al gruppo dei crumiri dove si trovava a qualche passo lontano e voi alti voi altri non avreste più dignità tornare sul lavoro volendo gli fece eco non se ne può più Mettello basta col provocare volarono gli insulti anticipando la scazzottata la rissa i colpi di pistola la fucileria vagabondi crumiri delinquenti ladri tutto accade nel giro di secondi il tempo che uno stormo di rondini volteggiò sopra le impalcate e si disperse dalla parte della ferrovia mi 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 Grazie.